L'Istituto Tecnologico Fermi di Francavilla Fontana è un'importante realtà radicata nel territorio da oltre 50 anni e frequentata da circa 1200 studenti. Si caratterizza per alcune scelte strategiche a tutela della formazione qualificata e innovativa degli studenti. Lo sviluppo di una dimensione dinamica ed europea attraverso partenariati strategici, scambi e stage nazionali e internazionali con scuole, aziende, centri di ricerca. La progettazione di percorsi formativi specifici inerenti all'industria 4.0, in collaborazione con il mondo aziendale e della ricerca tecnologica avanzata. Il perseguimento di certificazioni di indirizzo di cui è Test Center, quali quelle di informatica, ICDL, Cisco Essential e Cyber Security. La qualifica di saldatura elettrodo. Il patentino della robotica, solo due sedi in Puglia come Test Center. E le certificazioni Cambridge PET e FIRST. Il potenziamento dell'inglese con curricoli personalizzati di Speaking and Listening. L'inclusione e la personalizzazione degli interventi formativi anche attraverso lo studio degli stili di apprendimento degli allievi. L'Istituto dispone di rete internet con fibra ottica, 49 aule con notebook e smart TV, 17 laboratori innovativi con tecnologie di ultima generazione, 180 postazioni PC, 50 notebook, 40 Chromebook e 30 iPad. Cosa si studia al Fermi? L'Istituto, al termine del percorso studi, è accanto agli ex studenti con il servizio di placement, che accompagna i ragazzi verso il mondo del lavoro, della formazione superiore o degli stagi lavorativi post diploma anche all'estero. Ha attivato inoltre un corso serale per adulti nei settori meccanica ed elettrotecnica. È scuola capofila e fa parte della Fondazione ITS Aerospazio Puglia, settore mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitare la sezione orientamento sul sito www.itstfermi.edu.it e scaricare l'app ITST Fermi. Perlissi pugu.it e scaricare l'app wonderfulazione, la feste è un vlog programma di Rossi.